Ferro, più 3, 2 su 4 nell'ultimo franziente per l'Evangelisti, 2.29 Fabio, vai Danilo, Calvini, chiama lo schema, si libera, quasi recuperato la palla, Evangelisti, Circosta, ancora Calvini, su lui sempre di capo, ancora Circosta, scusate, pasticcia e Mez, forse la... Mez ha fatto un gran pasticcio, comunque, palla di Trapani, Danilo, devi continuare tu con la telecronaca, devo? Continuare tu con la telecronaca, non me lo farai dire, ok. Ritorna Trapani in attacco, la palla ritorna nelle proprie mani perché un giocatore in maglia granata, che questa volta è di Ferentino, ha pestato la linea, 67-64, Evangelisti, recupera il pallone, sale il blocco di Corral, ancora Evangelisti, batte il primo uomo, batte il secondo, e inizia! Marco, Evangelisti, Marco, Evangelisti, vai Danilo, vai Danilo, vai Danilo, la telecronaca, chi è questo che ha la palla? Zaccariello, Zaccariello il fallo, il tessitore, e vabbè, 6-9-6-4, 102 secondi, numero 8, 10-12, quinto fallo, io non capisco, fa una sportellata, 8-2, va bene, quinto fallo, time out, con sezione per Ferentino, un po' fiscali, specialmente nei nostri controlli, ma questa è una classica azione veramente da lasciare a correre, la gente diciamo che ce l'ha un po' con gli arbitri, strano, sono stati così equi, no vabbè, insomma, noi tendiamo sempre a calmare un po' i toni, sempre, in ogni circostanza. Nel frattempo un corretto si solleva dai tifosi, agli arbitri, gli dicono qualcosa di una compravendita, non so, no, neanche io, non hai capito, no, ma quest'ultimo fallo veramente inspiegabile, perché sotto canestro, l'ho fatto, un po' due, uno con, un altro senza, sono circostanze in cui, in cui circosta, esatto, bisognerebbe lasciar correre, poi, Fabio, Danilo, la tensione si impadronisce, due tiri liberi per Zaccariello, Zaccariello vuole essere guardato, io firmerei per un uno su due, ti dico la verità, chiedendo scusa sempre a chi ci segua da Ferentino. Vuoi sapere cosa penso io? Candela ha una gatta da pelare, non da ridere, è entrato adesso per la prima volta in campo, per il quinto fallo di Tessitore. Fabulos, chi c'è in lunetta, Zaccariello, non lo guarda, certo zero su due è un po' chiedere troppo, Danilo, continua a guardarmi, fai questa cosa, anche se capisco che il tuo volto, se ti dico continua a guardarmi, ok, non guardo, non mi giro, non mi volto, ti ricordi quella firma che avrei messo io? si è verificato, uno su due, va bene, 6-9-6-6, giusto? 6-9-6-5, più quattro, 6-9-6-5, con Trapani in attacco, Evangelisti, è a zona, no, è a uomo, che cos'è a uomo? Evangelisti contro tutti, Evangelisti contro tutti, si porta a spasso la difesa, e quasi si riesce, il fallo è palla, è di Trapani, finalmente, non è palla, sono due tiri liberi, magari fosse palla, sono due tiri per Corral, e due tiri importanti, molto, forza Diego, ora che abbiamo Diego, Armando tutto il mondo sta tremando, a Daniele è venuta la tosse, Daniele recupera presto, perché la telecronaca tocca a te, buono al primo di Corral, buono al secondo, Corral, forza la difesa, vai Daniele, 7-1-65, Calvini, la palla dentro, per Spagna Modica, si lotta al rimbalzo, e secondo il direttore di gara, il quinto fallo di Evangelisti, questa non ci voleva, allora, numero 7, Evangelisti, quinto fallo, Canelo, un minuto e 14, esce Marco Evangelisti, numero 6, quindi abbiamo fuori, con cinque falli, tra poco giochiamo tu ed io, sì, io se sapevo, mi portavo la borsa, segna Modica il primo, il secondo, ma tu devi guardare me, ti guardo, guarda, oh che begli occhi, con Fabio, dimmi come sta andando il secondo, ancora non c'è, speriamo che non ci sarà, andiamo, vai Daniele, sbagliato, uno su due, ci siamo, 71-66, 69 secondi, guarda che quintetto a Trapani, lo vuoi ricordare per favore, di Capua, Corral, Santa Rossa, Canelo, Candela, Santa Rossa si va, ci vorrebbe un bel falletto, su Santa Rossa, esatto, Santa Rossa, Santa Rossa, lo scarico, per Di Capua, tre secondi, bisogna tirare, tira, traio d'arresto, in Di Capua, che canesto, fantastico, Di Capua, fantastico, caldo, chi è che ha fatto questa penetrazione, numero 11, Zaccariello, più l'otto per Trapani, ma che canestro di Capua, 43 secondi, facciamo servizio, se appunto è basso, assolutamente, questo canestro lo vogliamo rivedere in tutte le salve, e ci vogliamo gustare anche la telecronaca, gustare è una parola che rossa, però, esatto, vabbè, ho sputacchiato un po', sì, anch'io, penso di averti sputacchiato sulla guancia, sputacchiamoci a Vicenza, ancora non è vinta, però Danilo, hai ragione, 7-4, 6-6, in lunetta, ma voi ricordate il quintetto di Trapani di questo? Di nuovo, Di Capua, Canelo, Candela, guarda me, guarda me, e come faccio a dire il quintetto, inventatelo, boom, 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 ha segnato il primo Zaccariello, Corrallo l'ultimo, vabbè, non guardo, non guardare, più secco, con telepatia faccio muovere il canestro, ci scusino sempre, siamo mortificati, ma che mortificati? hai l'ospettatore di Ferentino, è un buon gioco, come va? come va? 2 su 2 per Zaccariello, più 6, 74-68, Fabio, è dura, ci vuole adesso, anche, come dire, la mano ferma dalla lunetta, perché loro si rifugieranno sicuramente nel fallo, buono il fallo su Marlene, che è il fallo su Santa Rossa, adesso Walter, caro Walter, caro, scriviamo una letterina, caro Walter, aspetta che scrivi, caro, che ci sentiamo sempre più, tuoi amici, non guardare, guarda, forse devi guardare, decidi cosa devi fare, now that we are, adesso stavo dicendo in casa, andiamo, guardo, siamo più 7, 38 secondi, ok, continua, now that we are always, you shot in the basket, into the basket, 2 su 2, e andiamo, 38 secondi, difesa, difesa, siamo senza talento, siamo bassi, ma possiamo difendere, forza, insistiamo, il rimbalzo che non c'è, vai Danilo, tocca a te la terra, 28 secondi di Capua, 76-70, 6 lunghezze di vantaggio, 23 secondi, Vincenzo Di Capua, non vogliono commettere fallo, Santa Rosa, lo so, è un gioco nuovo, Di Capua, leva il pallone alle mani, e il fallo, stiamo vincendo questa partita, Fabio, ma è incredibile che non facciano fallo, si, hanno fatto passare questi 14 secondi, sono degli amici, allora Danilo, io chiedo scusa, Fabani, porta a casa, praticamente, Fabio, non è ancora finita, allora, se Tramani, porta a casa, ma smettila di essere così, la porta, sempre e mai, ottimismo, sì, però Vatter, noi siamo due amici, più o meno bene, però adesso, non voglio mai riascoltare questa telecronica, uffa, 76-70, proprio per far bene, io non attacco di cuore, lo scarico, che vanno da due, siamo sempre a due possessi, che cosa ha fischiato? Non so, Coppola Livata, non so se, a nascondino, mi manca Coppola Livata, gli vuole dare altri, mancano due secondi, 11 centesimi, 76-72, cioè per forza, che dobbiamo soffrire, Rosario Milana, è stato in regia, e alle telecamere di questa telecronica, Fabio Tartamella, Davide Rosalfi, Motocopo e Autogatto, hanno provato a raccontarvi, in maniera pedestre, come sempre, questi 40 minuti, che cosa succede, adesso, io vorrei capire, se è Coppola Livata o no, tutta la ricorda di Coppola Livata, certo, spiegale a quelli differentivi, quando si giocava a nascondino, se chi era sotto, nominava, dopo averlo visto, uno di quelli che scappavano diverso, da chi aveva nominato, si fermava il gioco, e chi contava, ricontava ancora, spendiamo due parole, velocemente, grande partita, per l'episodio più importante, della tua infanzia di Coppola Livata, o possiamo parlare della partita, della partita dicevo, grande partita di Trapani, tutti bravi, dal coach, ma perché 4 secondi, abbiamo regalato, 4 minuti, ci vogliono fare giocare, altri 4 minuti, mi sto confondendo, che cos'è la macchina del tempo, ritorno al futuro, ritorno al passato,